Speriamo che la mia idea funzioni, non posso perdere lo stage. Ora è il momento di scoprire se dentro voi aspiranti stilisti si nascondono dei promettenti manager. Parliamo dei marchi e dei prodotti che avete lanciato sul mercato. Yuki, la tua maglietta è piaciuta molto anche a me e vedo che hai guadagnato bene. Brava. Ne vuole una, è rimasta l'ultima? No. Bella, vero? Ho fatto bene a spendere quei braccialetti orribili in cambio della tua maglietta, Yuki. Il prossimo. Jacques. Io ho chiesto un prestito alla banca Tucker. Ho personalizzato i braccialetti e li ho rivenduti al doppio. Molto furbo. Queen, le presento la mia nuova collezione. Calzini porta smartphone. Per l'uomo di successo, ma con stile. Di stile ne vedo veramente poco. Posso sapere quanti braccialetti hai guadagnato con questi? Nessuno. Ma perché li ho spesi tutti per la valigetta? Il prossimo. Bianca. Io ho venduto consigli di stile in rete. Praticamente una fashion stylist a pagamento sempre disponibile in chat. Bella idea. E vedo che hai guadagnato bene. Brava. Maggie. Io ho pensato a qualcosa di eco-friendly. Ecco a voi, McGreen. Una linea di moda per salvare il pianeta. Sciarpa, borsa, cappello. Tutto realizzato in fibra d'ortica. Provenienti da coltivazioni svedesi. Ecco perché pizzica così tanto. E quanti ne hai venduti? Nessuno. Erano troppo fastidiosi. E ho usato tutti i braccialetti per comprare la stoffa. Quindi non hai più niente. Il prossimo. Nausica. N è futuro. N è moda. N è un marchio. Ma da oggi N è anche un'app con la quale riceverete gli aggiornamenti delle fashion blogger in tempo reale. Brava, Nausica. Tu sì che sei una vera manager. Quanti braccialetti hai guadagnato con la tua idea? Sorridi? Ora vattene. Beh, Nausica, mi sembra evidente che tu hai vinto la prova decisiva. Quella che io ritengo più importante per partecipare allo stage. Complimenti. La Lucy Style ti aspetta. Sì, sì, ho vinto. Sono io la migliore, sono io la migliore, sono io la migliore, sono io la migliore. Questo si chiama fallimento totale. Ciao a tutti, siamo Maggie e Bianca. Seguiteci sul nostro sito ufficiale, canali YouTube e profili social. E non perdete neanche un aggiornamento. Né un hashtag. E non perdete neanche un aggiornamento.